Contrare il Milan sarà una cosa molto difficile e emotivamente pesante. Ma lo sapevate che a Milano esiste una carrozzeria chiamata Inter? A 24 ore dall'Euroderby di Champions League siamo venuti a visitare questo posto magico, dove il tempo sembra essersi fermato. Via Carlo Dadda 4, zona ripa di Porta Ticinese, dove nel 1908 sorgeva il primo campo che ha accolto l'Inter a casa. Un'attività a conduzione familiare fondata nel 1961, epicentro dell'interismo, luogo storico, luogo unico al mondo, frequentato nei decenni da tantissimi campioni. Il primo fu Sandro Mazzola. I fratelli Corrado e Riccardo Fiamberti gestiscono la carrozzeria Inter, c'è del nero azzurro ovunque, le divise poi sono la fine del mondo. Ingresso da paura, facciata stupenda, una volta entrati cimeli di ogni tipo, foto di tante epoche diverse, momenti immortalati che rimangono per sempre, come la festa ufficiale del club per festeggiare il triplete. Abbiamo chiesto a Corrado cosa significa per lui questo derby. Questo derby per me è il momento più magico dell'anno. L'Inter in questo momento merita di passare questo turno. La bravura di un vero interista è quello di affrontare la squadra che in quel momento è giusto da castigare. Ma lei, i cugini milanisti, voleva incontrarli? Assolutamente no. Il destino non si può cambiare, ciò che accade bisogna affrontarlo.